Ho voluto fortemente questa campagna contro l'abuso di alcol tra i giovanissimi perché è uno dei problemi più grandi che abbiamo tra gli adolescenti in Italia ma anche nel mondo e la decisione di affrontarlo in un modo diverso, cioè trovare un linguaggio per parlare ai ragazzi e anche invitare le famiglie ad una riflessione su un tema che ha fatto parte della nostra cultura. Noi abbiamo la cultura del vino ma il vino legato al pasto, legato ad una degustazione delle bevande più antiche e anche più gradite nella nostra cultura culinaria. Questo che sta accadendo oggi nel mondo giovanile è un'altra cosa, completamente diversa. Abbiamo ormai da dieci anni in Italia l'entrata a una moda che era soltanto dei paesi nordici, cioè quella di ubriacarsi a prescindere dal pasto e di cercare lo sballo attraverso l'alcol. I dati che noi abbiamo sono veramente inquietanti. Voi immaginatevi che 3,3 milioni di morti nel mondo, cioè il 5,9% di tutti i decessi, sono legati al consumo di alcol. In Italia 775 minori, cioè tra gli 11 e i 17 anni, ripeto, tra gli 11 e i 17 anni hanno consumato l'alcol lo scorso anno e questo è ovviamente una stima a ribasso. Non solo, ma il 10,5% dei ragazzi e il 7,9% delle ragazze consumano alcol fuori dai pasti, quindi con l'unico scopo di ubriacarsi. Il fenomeno dell'ubriacatura ricercata, cioè di ingerire grandissime quantità di alcol per sballarsi, è diventato un fenomeno visibile nelle nostre città davanti a tutti, ma soprattutto visibili nei pronto soccorso. Se voi immaginate che il 17% di tutte le intossicazioni alcoliche che arrivano nei nostri pronto soccorso sono tra ragazzi e ragazze sotto i 14 anni. Gli effetti di questo consumo smodato, illegale, non controllato dell'alcol sui corpi di ragazzi che sono ancora bambini è devastante ed è soprattutto un effetto che noi ritroviamo in azioni collegate, cirosi epatiche, una propensione alla dipendenza all'alcolismo, ma tantissimi incidenti alla guida. È la prima causa di disabilità e di morte tra i giovanissimi sotto i 24 anni. Quindi è un fenomeno molto serio e noi speriamo di trovare un giusto linguaggio per parlare ai ragazzi e dirgli con grande semplicità di stare attenti, di non abusare di alcol, di non bere quando sono così giovani e soprattutto anche di rispettare quella che è la legge, cioè che prima di 18 anni non si possono consumare alcolici.